Volevo darvi oggi qualche aggiornamento su quelli che saranno i prossimi eventi che stiamo organizzando con iKiam. Abbiamo organizzato un evento a Piacenza per gennaio e probabilmente vedrete passare anche il video di presentazione in questi giorni tra oggi e domani. Questo è un evento che si chiama cerchio di guarigione perché abbiamo deciso quest'anno di lavorare il più possibile con gli eventi intorno al concetto della guarigione, del cerchio di guarigione. Stiamo pensando di strutturare un po' un percorso che segue un po' quelle che sono le fasi della trasmutazione alchemica per iKiam, quindi fare un grande lavoro di guarigione, poi fare un lavoro più sul potere personale e quindi un lavoro proprio dedicato al risveglio. Comunque ancora un percorso tutto in costruzione, quindi per ora iniziamo con il lavoro con il cerchio di guarigione. Poi in primavera probabilmente avremo un altro evento sempre su al nord dalle parti di Torino, stiamo ancora chiedendo dei preventivi, non siamo ancora sicuri. E poi verso giugno a Molli di nuovo in Toscana, sempre un evento di due giorni, due tre giorni e poi a settembre sarebbe bello fare un grande ritiro, come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi di almeno quattro giorni, magari addirittura cinque giorni. E poi magari se Molli riesce ad essere agibile anche per l'inverno, perché stiamo facendo dei cambiamenti, mettendo delle altre stufe, chiudendo degli spazi, magari per il prossimo Capodanno, quindi Capodanno 2021-2022, avere lì la possibilità di stare tre giorni sarebbe bello. Quindi questo è un po' il programma, ancora le date non sono sicure, però è un po' il programma per quest'anno, per quanto riguarda gli eventi di IKEA, quindi quelli che porto insieme con Massimo e con gli altri del cerchio. Un aspetto su cui stiamo lavorando molto è quello di riuscire anche a rendere questi eventi sostenibili finanziariamente, perché noi finora non ci siamo pagati o abbiamo solo, diciamo, sostenuto le spese vive delle persone. Ma da questo 2021 dobbiamo cominciare un po' a pagarci un pochino, essere sempre in pari con le spese e fare in modo anche che per gli eventi rimanga sempre qualcosa per l'associazione. Quindi una cosa che ci siamo accorti, ad esempio, e che è un po' miratrista è che quando noi andiamo in trasferta fuori da Molli, fuori dalla Toscana, fuori dalla nostra sede temporanea, andiamo da qualche altra parte, i costi salgono così tanto perché si muove un gruppo di cinque persone e che non riusciamo a far partecipare agli eventi qualcuno gratuitamente, se ha difficoltà a finanziare o comunque a dare dei fortissimi sconti a quelle persone che sono più vicine al cerchio ma che magari sono più in difficoltà. E questa è una cosa che fin dall'inizio ci eravamo detti, dobbiamo essere bravi a dare sempre la possibilità a chi ha difficoltà finanziare a partecipare, però ci siamo resi conto che alla fine dei conti, se noi andiamo ad affittare una struttura fuori è impossibile fare questo al momento, soprattutto al momento perché con il Covid la possibilità di avere persone in sala è minore, quindi se è una sala che può ospitare 50 persone ci puoi stare in 30, quindi puoi avere al massimo 30 persone, quindi hai meno iscritti, paganti eccetera. Quindi questa è un po' la cosa che mi rattrissa di più rispetto a questo, però mi rendo conto che bene o male noi dobbiamo cercare di sostenere, che sia sostenibile questo progetto, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Alla fine ci siamo resi conto che il prezzo medio per un evento di due giorni, il prezzo base base, diciamo fuori sede per noi, è un po' in linea con quello di altre organizzazioni che organizzano eventi in più persone, quindi non singoli operatori ma più operatori che lavorano insieme e siamo intorno ai 350 euro, a volte un po' meno, a volte un po' di più, però questa è la base per affittare una struttura dal venerdì alla domenica, pagare un gruppo di persone, sostenere le spese ed avere qualcosa per l'associazione. La cosa cambia quando noi lavoriamo a molli dove abbiamo molte meno spese, è una situazione più spartana e lì sicuramente negli eventi di giugno e di settembre avremo la possibilità di dare accesso a chi ha più difficoltà finanziariamente, magari anche a scambio perché ci sono sempre delle cose da fare a molli e la cosa cambia anche quando noi mettiamo in piedi delle giornate, magari come abbiamo fatto quest'estate, delle giornate Aikiam qui in Toscana che di solito le facciamo a donazione, quindi anche lì questi sono momenti che vogliamo veramente riservare alla possibilità che tutti possano partecipare, tutti anche se non hanno la disponibilità finanziaria per esserci. Questi aspetti finanziari sono molto importanti e io personalmente sento di non essere la persona migliore per navigare questi aspetti perché in fondo mi rendo conto che mi sono sempre dato un po' poco valore rispetto alle cose che porto e infatti mi ritrovo dopo cinque anni che lavoro con Accademia Infinita comunque a non essere in grado di finanziare i miei progetti e le mie idee, cioè non ho accumulato un capitale tale da poter finanziare tante idee che avrei. Questo anche perché ho comunque fatto la scelta sempre di condividere la maggior parte delle mie cose gratuitamente e comunque i corsi a pagamento gli do un valore decisamente basso perché voglio che più persone possibili possano partecipare, quindi questa è una cosa che io sento fortemente per Aikiam va corretta nel tempo, ci vuole qualcuno che abbia un occhio per il business, che abbia un occhio per il mercato, che sappia far crescere finanziariamente il progetto, perché le idee sono tantissime, io personalmente ho tantissime idee su come sviluppare il sentire Aikiam sia online che offline, però serve il denaro per farlo, servono le persone, le risorse, l'aiuto delle persone ma anche il denaro per finanziare qualsiasi cosa e quindi questo è sicuramente un aspetto su cui dovremo lavorare ed è interessante vedere come nel momento in cui ci mettiamo seriamente a fare dei conti, ora abbiamo Beatrice che ci prepara tutti questi fogli Excel, fogli di calcolo per farci capire come un evento si programma perché lei lo fa di lavoro in modo da non perderci denaro e ci rendiamo conto di quanti siano gli aspetti delicati che bisogna, a cui bisogna fare attenzione perché io e Massimo siamo due persone che si sono sempre un po' buttate allo sbaraglio quando organizzavamo un evento, mettevamo un prezzo che era solito basso e ci è sempre andata bene perché avevamo sempre un buon numero di iscritti ma poi eravamo solo noi due, facevamo magari degli eventi molto vicino a noi quindi non avevamo grandi spese di trasferta. Quindi sì, sono tutti questi aspetti del lavorare il cerchio, del lavorare in un'organizzazione che sono importanti e sono interessanti e personalmente mi stimolano tanto a voler apprendere, a capire cose che ancora non so, quindi se c'è qualcuno di voi che ha una particolare capacità nel business, se c'è qualcuno di voi che ha un particolare anche entusiasmo nel lavorare col mondo del mercato, nel far girare delle risorse, nel comprendere i meccanismi del mercato, siete benvenuti a farvi vivi sul forum, via mail, come volete, perché c'è tanto bisogno in questo momento anche di chi ha questo tipo di intelligenza, noi siamo tutti un po' a cuore aperto però poi navighiamo bene o male sempre in pari rispetto agli aspetti finanziari, anche se vi devo dire che grazie comunque alle vostre donazioni, insomma Aikyama sta bene finanziariamente, non abbiamo grosse spese, al momento stiamo crescendo però di nuovo non ci siamo pagati finora, siamo tutti bene o male lavorando a livello volontario, abbiamo pagato solo le spese, quindi io desidero proprio che questo progetto diventi qualcosa di abbondante, qualcosa in grado di generare e rigenerare il flusso dell'abbondanza, questo è veramente importante, l'idea che Aikyama rimanga qualcosa di piccolo, di ridotto, una cosa che si fa tra amici, non mi stimola per niente perché è riduttivo, perché ci sarebbero così tante cose da fare in questo momento, quindi questa è la situazione per quanto riguarda gli eventi di quest'anno, è possibile che io faccia qualche altro evento da solo ma non lo so sinceramente, sto un po' lavorando per far crescere, per far espandere il mio canale inglese, sapete quanto amo questa lingua e quanto amo anche questa finestra sul mondo internazionale, credo che sia una buona risorsa sia perché mi diverte moltissimo lavorarci, sia perché nel tempo può diventare una buona rendita passiva, una buona fonte di reddito per me in modo da non pesare poi su questi eventi Aikyama, perché in questo momento non è giusto per noi lavorare con Aikyama con l'idea di dover guadagnare, sì ci paghiamo qualcosina perché comunque è bene restare in equilibrio, però l'idea di doverci già guadagnare, di dover già creare una buona entrata di denaro è molto prematura, in questo momento dobbiamo pensare a stimolare delle idee che abbiamo, a creare un percorso che è ancora in costruzione, quindi non possiamo appesantire Aikyama con tutto questo e quindi per quanto mi riguarda sto cercando altre fonti di reddito che possano essere allo stesso tempo divertenti per me, stimolanti per me, ma senza pesare su Aikyama per tutto ciò che è la progettazione, per tutto ciò che è il lavoro nei seminari, negli eventi. E questo è tutto come aggiornamenti che vi volevo dare e vi arriverà la newsletter per questo evento che è dal 15 al 17 gennaio 2021, è da un venerdì pomeriggio, la domenica pomeriggio, in un posto molto molto bello, vicino a Piacenza, un centro che si chiama Miripiri, è un vecchio borgo ristrutturato tutto in bioedilizia, molto molto bello, in un posto bellissimo con una grandissima sala, abbiamo trovato questo luogo e ci è piaciuto tanto e quindi l'evento sarà lì, ci sarà anche la possibilità di fare il fuoco sacro con Shoshana e niente, se vedrete passare il video forse su YouTube o comunque vi arriverà la newsletter, ci sono circa, mi pare di ricordare, 25 posti per dormire lì, sempre per via del Covid, non di più, però c'è comunque la possibilità magari per chi vuole di stare negli agriturismi intorno e di venire solo ai lavori in sala, diciamo in sala si può stare tranquillamente in 30-35 persone. e sarà un momento bellissimo perché rinnoveremo quell'energia che abbiamo già seminato a settembre ma più nella chiave della guarigione, su tutti i piani, che sia fisica, emozionale, mentale e cominceremo proprio a lavorare di più su questa idea di creare un percorso per le persone, quindi sempre un percorso che non è strutturato come una scuola, ma un percorso come qualcosa che si struttura in cerchi, quindi in cerchi familiari dove uno può passare da un cerchio all'altro, mettiamo il cerchio di risveglio, il cerchio di potere, il cerchio di guarigione, può passare da un cerchio all'altro facendo un suo percorso, ma in maniera molto flessibile, è ancora qualcosa che stiamo costruendo, quindi è tutto da vedere come verrà fuori poi, però come ho detto prima le idee non mancano. Ok, alla prossima ragazzi, buona giornata!